Non mi nascondo dietro all'evidenza di una squadra che quando non lotti i risultati in questo campionato sono questi, non sono campionati in cui non ti può permettere assolutamente di non fare una prestazione. La squadra per la nostra, giovane, costruita per capire cosa può fare in questo campionato, ancora non ha trovato la sua identità e quindi me nascumo tutte le responsabilità possibili del caso, quindi non c'è assolutamente da additare niente sui giocatori, ma mi prendo io tutte le responsabilità del caso perché quando una squadra è priva di cuore e di orgoglio come quella di oggi è solo ed esclusivamente colpa dell'allenatore, quindi i ragazzi devono stare tranquilli, sereni, che in questi momenti qui bisogna saper soffrire, abbassare la testa e anche dire e fare un mea colpa e questo è questo momento qui di grande sofferenza e lo dobbiamo superare tutti insieme. Io sono convinto che questa squadra si trovava l'1-1 e iniziava a correre, non è un discorso fisico, assolutamente ci stiamo allenando bene, i ragazzi si allenano bene, il problema è mentale, è psicologico, di quanto ormai il calcio non lo inventiamo certo oggi, sappiamo che in momenti non ci riusciva un passaggio, non ci riusciva uno stop, in secondo tempo esprimamente quella è paura, ragazzi lo sanno fare benissimo, l'hanno fatto e lo continuano a saperlo fare, ma quando la testa non ce l'hai, quindi non ti viene niente e questo è questo momento qua. Una vittoria sofferta, decittimata con un gran secondo tempo da parte della mia squadra, dove si poteva aver chiuso la partita prima. Il primo tempo è stato molto combattuto contro un ottimo figline, ben messo in campo, che ha anche un bel gioco, ci ha messo in difficoltà diverse volte, anche se poi occasioni clamorose non l'hanno avute, però è stata una partita difficile, quindi la vittoria acquista ancora più valore. Se è in vantaggio, ripeto, è una partita importantissima per noi, è anche difficile visto il primo tempo, ti capitano nel secondo tempo due chiarissime occasioni per chiuderla e lì magari non siamo stati bravi, però allo stesso tempo non ci siamo disuniti più di tanto, abbiamo sì sofferto, però comunque abbiamo controllato anche abbastanza bene e poi dopo il 2-0 abbiamo legittimato. Le sfide toste sono tante, sono per tutti, perché è un campionato molto molto livellato, dove la squadra maggiormente attrezzata per vincere il San Donato in questo momento sta stentando, per cui ci sono 10 squadre che possono benissimo vincere il campionato e comunque, come l'ha dimostrato la vittoria della castiglianese a Rignano, puoi vincere con tutte ma puoi perdere con tutte. Per cui è un campionato livellatissimo che ancora magari avrà da dire molto.